Buon pomeriggio a tutti, siamo seduti in maniera informale perché vuole essere un incontro per parlare di tanti argomenti che interessano all'associazione Obiettivo Cassino di cui parleremo tra un po'. Benvenuti a tutti, vi ringrazio per essere venuti, facciamo fare subito un saluto a Marino Fardelli perché siamo reduci da una giornata molto importante, quella di ieri con la presenza del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Sì, grazie, è veramente una giornata, un pomeriggio così tra amici in maniera veramente informale. Dopo il grande successo di ieri ci è sembrato insomma d'obbligo e doveroso iniziare a parlare di città, della città di Cassino, ieri abbiamo parlato della Regione Lazio, dell'impegno che sta mettendo a favore dei territori, una bellissima giornata, il Presidente è soddisfatto, contento, è andato via veramente contentissimo di poter incontrare tanta gente e ha messo a disposizione un tema a noi molto caro che è quello che in certo qual modo stiamo poi mutuando oggi così tra di noi, che è il tema dell'ascolto, una prerogativa, un valore non indifferente in questo periodo, in questo momento di cui della politica si dice di tutto e di peggio. Però abbiamo avuto ieri un'esperienza con il Presidente Zingaretti che è venuto all'interno della comunità Exodus e ringrazio anche Luigi e tutti gli operatori che ci hanno aperto le porte della comunità per questo momento di confronto e il Presidente ha avuto modo poi di incontrare tutti, di stringere una mano con tutti, di ascoltare alcune proposte, idee, suggerimenti e anche qualche delegazione di coloro che in certo qual modo avevano qualcosa da dire su alcune politiche che la Regione Lazio sta mettendo in campo. Quindi una grande dimostrazione di apertura e di ascolto da parte della Regione Lazio con in testa il Presidente Zingaretti. Ma oggi siamo qui per parlare della città di Cassino, una città che in certo qual modo ha bisogno di uno scatto d'orgoglio ferito e noi cominciamo proprio oggi un percorso, un percorso di ascolto della città stessa e abbiamo pensato di chiamare a raccolta coloro che in certo qual modo ne sanno più di noi, più di me, più di tutti noi messi insieme e che sono degli attori protagonisti all'interno del panorama cittadino su alcuni campi di competenza. E quindi è quello che il mio obiettivo, terminata la Kermesse pomeridiana, è quello di poter avere un arricchimento all'interno di questa ipotetica mia cassetta degli attrezzi con la quale giro sempre per tutta la provincia e in città cercando di capire idee, suggerimenti e capire da loro che cosa ha bisogno la città, una sorta di medici che ci segnano una ricetta, quando si va dal medico della mutua ti fa la ricetta, noi vorremmo da loro una ricetta ideale della città del domani, della nostra città di Cassino, perché questa compagine chiamata Obiettivo Cassino vuole esercitare un ruolo da protagonista all'interno delle prossime elezioni amministrative del 2016, di maggio 2016. E quindi noi ci saremo, ci saremo con tutti coloro che intendono in certo qual modo essere protagonisti all'interno del panorama cittadino e tanti giovani che hanno deciso di sposare questa idea e vogliono oggi insieme a me, insieme a tutti quanti voi poter ascoltare chi ne sa più di noi. Questo è il leitmotiv del pomeriggio, quindi io vi ringrazio e ripeto, una giornata, un pomeriggio veramente informale. Ci auguriamo insomma che la serata possa poi essere tradotta con delle idee, dei suggerimenti utili per la nostra città e il nostro territorio. Grazie. Grazie. Ieri pomeriggio il Presidente Zingretti ci ha dato due bellissime notizie, innanzitutto che arriveranno dei nuovi treni e la questione dei pendolari è sicuramente molto sentita, a Cassino, sulla Cassino-Frosinone-Roma. È una questione anche di competitività del territorio, non soltanto di una questione stessa di disagio. E poi ha annunciato l'arrivo di 22 nuovi medici per la provincia di Frosinone. Ha parlato anche di alta velocità e di una correlazione sempre con il pendolarismo e questo ha suscitato molto molto interesse. siamo stati contattati anche dalle associazioni dei pendolari per avere notizie più precise. Insomma oggi ci sono anche appunto notizie sulla stampa. Il Presidente Zingretti che ha parlato anche del coraggio di Marino Fardelli, del passaggio molto importante in maggioranza perché come ha detto ieri è più semplice forse stare sui banchi dell'opposizione e cavalcare le lotte dall'opposizione piuttosto che stare in maggioranza dove o si lavora o non si lavora. Intanto torniamo a questa due giorni della prima festa di Obiettivo Cassino e un saluto da parte di Jacinto Paolella che è il coordinatore dell'associazione. Grazie per il vostro intervento, un caloroso grazie di cuore da me e dall'associazione Obiettivo Cassino. Come già annunciato Marino l'Ombiettivo Cassino sarà presente alla competizione del 2016 e non ha alcun bisogno di commenti, già la denominazione dell'associazione si commenta da sola. Il nostro intento è quello di preparare una squadra che fonda la sua battaglia politica della competizione di maggio del 2016 sulla trasparenza, la legalità, l'umiltà, l'onestà ma soprattutto la verità. Quella che come diceva un grande statista Aldo Moro la verità rafforza il coraggio degli uomini. Io faccio un invocato a tutti gli amici, tutti i giovani che si sono avvicinati all'associazione Obiettivo Cassino e nel maggio 2016 non solo parteciperemo ma dovremo vincere questa competizione. Grazie. Grazie Jacinto, dalle tue parole ci sembra di essere già direttamente in campagna elettorale speriamo invece che possiamo stare ancora tranquilli per un po'. Intanto questa due giorni di Obiettivo Cassino per queste due giornate abbiamo individuato dei temi principali, quello relativo all'economia e al lavoro e quello relativo all'ambiente. Economia e lavoro e non possiamo non pensare alla Fiat FCA, i nuovi investimenti sulla Giulia, non possiamo non pensare che però non solo la Fiat deve essere diciamo il volano di questo territorio ma credere anche nelle aziende locali, nell'impresa locale e dibatteremo su questo proprio alle 18.30 con un convegno nell'ex falegnameria, un luogo di lavoro, un luogo di sudore, è proprio lì che si parlerà di lavoro, di Fiat, di nuovi investimenti. Domani e poi questa sera ci sarà la festa, ci sarà la musica, quindi un momento di relax per tutti. Invece nella giornata di domani abbiamo individuato il tema dell'ambiente che sposa bene con la domenica e già dalle 16 Exodus apre le porte anche per questa giornata per i bambini nella fattoria didattica. Già nella scorsa estate sono stati ospitati tantissimi bambini che con entusiasmo insomma hanno visitato tutta la zona della fattoria, del miele, la zona agricola, poi magari ne parleremo meglio con Luigi Maccaro, centinaia di bambini che sono venuti dalle scuole o comunque da campus. Allora dicevo quindi la giornata di domani poi vedrà alle 17 l'inaugurazione della mostra che già è venuta in via eccezionale ieri pomeriggio con il presidente Zingaretti, però domenica, domani avremo altre personalità che arriveranno insomma per visitare la mostra e per partecipare poi al convegno proprio sull'ambiente, su questa scommessa che si vuole fare anche nel nostro territorio. Allora partiamo subito con un saluto da parte di Luigi Maccaro, ti ringrazio per averci ospitato, per aver fatto sì che questo giardino in un certo senso sia diventato un po' come il giardino di casa nostra. Io ho avuto questa sensazione in questi giorni lavorando qui in questa organizzazione, quindi per questo veramente ti ringrazio per aver trasformato la comunità almeno nella nostra sensazione in un luogo aperto, aperto alla città, aperto ai giovani, aperto a noi tutti. Grazie a voi. Allora intanto grazie a voi veramente per averci portato il presidente della regione, per aver pensato a questo posto per questi momenti di incontro. Non è un fatto strano, noi da un po' di anni, lo dicevo ieri, stiamo cercando di trasformare la comunità per una serie di ragioni. Cerco di essere sintetico. La prima è che dobbiamo fare in modo che si abbatta il pregiudizio nei confronti di luoghi come questo. In tutta la società ci sono persone che sbagliano, persone che cercano di ricominciare, persone che hanno bisogno di una mano, di essere aiutati per inserirsi in società. Questo è uno dei posti in cui avviene questa roba qui. E per fare in modo che questo percorso di recupero sia efficace c'è bisogno che la gente la smetta di additare le persone che hanno sbagliato. nel nuovo Exodus, Don Antonio, noi abbiamo fatto di questa cosa qui la nostra scelta di vita. Prendere per mano le persone che hanno sbagliato e ridargli un'altra occasione. Però se le persone non vengono qui dentro a vedere quello che succede, quello che i ragazzi fanno con le loro mani, quali sono le cose positive che ancora hanno dentro e dalle quali si può ripartire per ricostruire un'esistenza dignitosa, tutto questo, cioè la società diventa un muro di cemento armato e quando questi ragazzi escono fuori devono, insomma, hanno delle difficoltà enormi. Per cui l'abbiamo fatto con la fattoria didattica, con i campi sportivi, con gli eventi per i bambini, con la Mille Giovani per la Pace che una volta facciamo in piazza, che da cinque anni facciamo qui. Tutti gli eventi sono buoni per fare in modo che la gente venga qui, venga a vedere quello che facciamo e si incontri, non solo incontri della comunità, si incontri, perché questi eventi servono anche a fare incontrare le persone. Cassino è una città che non ha una piazza. C'è vero, c'è Piazza Labriola, però la piazza intesa come la intendeva Giorgio Lapira quando parlava di come dovrebbe essere una città, quella dove la gente si incontra, dove si costruiscono le relazioni. Ecco, ci sono probabilmente vari posti in cui l'incontro fra le persone diventa capace di generare cose nuove e noi Exus vorrebbe essere uno di questi posti qui. Noi crediamo che questa società sia particolarmente, siamo in un tempo in cui la società è particolarmente stupida. Abbiamo paura di quelli che muoiono di fame a poche centinaia di chilometri da casa nostra, abbiamo paura di quelli che sbagliano, abbiamo paura di... Allora no, chiudiamo... Secondo me le uniche aziende che funzionano sono quelle per la sicurezza, che producono cancelli, impianti di allarme. Chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo per preservare il nostro piccolo e quel poco che abbiamo e siamo incapaci di aprirci all'altro. E anche l'incapacità della politica di dare risposte alla gente, secondo me, sta proprio nel fatto che si chiude, nell'autoreferenzialità, nelle scelte che si fanno nelle stanze chiuse, nella mancanza di confronti come quello che stiamo facendo oggi e come quelli che spero che continueremo a fare da qui, almeno alla data delle elezioni comunali. Quindi questi sono un po' i motivi che ci portano a ringraziarvi per essere qui e che ci portano ad aprirci e che ci porteranno in questo anno ad invitare anche altri che vorranno venire qui a confrontarsi con questi temi. Marino prima diceva vogliamo ascoltare, vogliamo capire che cosa c'è da mettere in una cassetta degli attrezzi di chi voglia mettersi al servizio della città. Oggi qua ci sono un po' di facce con le quali ci rivediamo puntualmente ad ogni campagna elettorale a raccontarci alcune cose. Potremmo dirci tra di noi siamo un po' l'esercito degli sconfitti, di quelli che ogni volta mettono alcune sottolineature, alcuni accenti e poi rimangono lettera morta. Anche qui cerco di andare per punti e di essere sintetico. Il problema centrale della città di Cassino sono le periferie, le periferie geografiche e le periferie sociali. Le periferie geografiche sono San Bartolomeo, la Fossa dei Serpenti, tutti i luoghi in cui in qualche modo sono vivai di disagio, in cui si alleva il disagio. Non sono gli unici evidentemente, però esagero, ma ci vorrebbe una ruspa che abbattesse questi quartieri perché io una delle cose che non sopporto, e su questo con Marino non saremo mai d'accordo, è la retorica sui sindaci della ricostruzione. Cassino è stata ricostruita male e quelli che hanno pensato quartieri come San Bartolomeo e il Colosseo non lo potevano immaginare chiaramente, ma oggi lì si alleva il disagio. Ma le periferie non sono solamente periferie geografiche, sono anche sociali. Sono quelli che si realizzano quando i ragazzi che hanno naturalmente bisogno di divertirsi, di trasgredire, di stare insieme, di vivere avventure, di fare cose anche emozionanti, non hanno nessuna occasione per farla qui. E quindi passano il loro tempo nei bar, nelle discoteche, nei rave. La nostra unità di strada gira nelle campagne e in mezzo alle montagne circostanti dove i ragazzi si riuniscono, montano le casse, vanno lì con i gruppi elettrogeni e fanno musica, droga, alcol a rotta di collo per 24-48 ore. E noi non ne sappiamo niente. Quindi le periferie sono anche quelle che si costruiscono i nostri ragazzi perché questa città non ha un posto dove si possa andare a fare musica gratis, teatro gratis, sport gratis. È chiaro che le strutture si devono anche mantenere in qualche modo, però dove sta l'istituzione, dove sta l'ente pubblico? Quando riusciremo ad aprire le scuole al pomeriggio, dove sarà possibile fare queste cose in maniera gratuita, vicino ai ragazzi. E quindi questo tema qua delle periferie secondo me è centrale. Siamo concentrati troppo sul centro della città, troppo sul voler avere il salotto di Piazza Labriola e non ci siamo resi conto che intorno ci cresce un disagio che è pazzesco. Stiamo per... ma vi dico solo l'ultima. Un ragazzo di San Bartolomeo che adesso ha 30 anni e che già dall'età di 8 anni viveva da solo e aveva raccontato all'assistente sociale del comune di Cassino che il vicino di casa era lo zio. L'assistente sociale del comune di Cassino ha fatto finta di crederci perché non aveva una risposta da dare un bambino che aveva la madre deceduta e il padre in galera, ha fatto finta di crederci e ha lasciato le cose come stanno. Ovviamente quel bambino di 8 anni di San Bartolomeo poi è diventato grande, è diventato tossicodipendente, è diventato spacciatore, è finito in galera. Adesso con una fatica bestiale sta cercando di venire fuori da quella situazione. Ma perché? Perché il comune è stato assente in quello come in altre centinaia e centinaia di casi? Queste periferie devono stare al centro delle nostre idee, dei nostri programmi di quello che vogliamo fare. Un secondo punto che secondo me è fondamentale. A Cassino ci stanno tantissime associazioni. Però bisogna dirsi anche che ci vogliono 20 minuti a fare un'associazione. Si scrive lo statuto, eventualmente si va dal notaio ma non è necessario. Sul nostro territorio, non solo a Roma, ma anche sul nostro territorio, c'è una porzione di terzo settore che è malato, che non è terzo settore, che non si mette insieme per rendere dei servizi alle persone più deboli. C'è un terzo settore, un cosiddetto terzo settore, fatto di cooperative e associazioni, che si mette insieme per non pagare le tasse, per ottenere degli affidamenti diretti dagli enti pubblici senza passare per le gare d'appalto, che si mette insieme per fare profitto nascondendosi dietro a onlus sedicenti. Allora, a questa cosa qua, l'ente pubblico deve dare una risposta con dei processi di accreditamento, con delle... non lo so a quale... anzi, io delle idee ce l'ho, secondo me ci vorrebbe un accreditamento sociale sul quale stiamo dicendo da anni che bisognerebbe lavorare. Ma non è possibile, non è tollerabile ancora oggi che ci siano delle cooperative sociali che fanno impresa profit e sono cooperative sociali solo per non pagare le tasse. Scusami, Renato. Allora, a proposito di associazioni, leggevo che sono circa 5.000 le associazioni o comunque similari nel Lazio e volevo parlarne con Simona Di Mambro perché ci sono anche delle parti positive, non solo tutte le parti negative che hai elencato Luigi, che giustamente bisogna conoscere assolutamente. Però le associazioni molto spesso arrivano dove le istituzioni non vanno. Giusto, Simona? Buonasera a tutti. No, non mi trovo io di là, io sto sempre dall'altro lato. Allora, Luigi in realtà mi invita a nozze perché per chi ci conosce da anni vede sempre me Luigi e i convegni. Per chi ci conosce da anni nelle campagne elettorali vede che siamo sempre io e Luigi che ci esponiamo. Le altre cooperative non lo fanno. Non lo fanno mai, non vengono nemmeno a dire qual è la città che vorrebbero. Non l'hanno mai fatto perché poi loro prendono direttamente dopo, loro saltano gli step e hanno quello successivo dove prendono. Ma sì, è vero, facciamo anche esperienze positive con tanto sacrificio e in parte senza l'aiuto degli enti pubblici perché come diceva Luigi si girano dall'altra parte. Vuoi sapere perché il comune di Cassino, ma anche gli altri comuni, perché da me succede che tanti comuni non intervengono. Ultimamente da noi in casa famiglia ti rispondono che non hanno soldi per pagare le rette, che sono un minimo. Voglio sfatare anche il mito dei 300-400 euro al giorno, sono 70 euro al giorno in casa famiglia. Ok, quindi insomma tutto fatturato, quindi visibile. Ma ti dico, non possiamo intervenire sui bambini, non possiamo intervenire sui ragazzi perché per noi è una spesa e ci crede una spesa per il comune. Mica no, però fanno prima a girarsi dall'altra parte o a dare l'unatantum alle famiglie per pagare la bolletta. Noi vogliamo conoscere però un po' di più qual è la realtà in cui lavorate. Sì, noi ci siamo comunque dovuti organizzare proprio per queste difficoltà. A parte le difficoltà, qual è il tessuto sociale al quale rispondete per la città? Allora, per la città io in particolare rispondo, io mi occupo di minori, di saggio minorile, quindi ad oggi ho due strutture che si occupano di bambini e ragazze provenienti da situazioni di abusi e maltrattamenti. Io non mi occupo di stranieri per scelta. Noi, 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 ci siamo posti il problema più volte insieme a tanti enti di cosa far fare i ragazzi subito dopo il percorso in struttura che a una certa età deve finire per legge. Ma purtroppo dobbiamo rispondere, come dicevi tu, dove non arrivano loro. Abbiamo deciso allora di lavorare con questi ragazzi e di creargli un futuro, almeno una possibilità. Poi non è detto che molti rimangano ci riescano. Però nel frattempo ci siamo indebitati tanto e a due in particolare dei miei che sono da me da 11 anni gli abbiamo aperto il primo ristorante della legalità in Italia. Della legalità perché? Perché nel frattempo noi collaboriamo con una serie di realtà. Noi utilizziamo dei formaggi di agricoltori locali che si sposano benissimo con il miele della comunità Exodus. Allo stesso modo utilizziamo le verdure della comunità ma anche le verdure che degli ex degenti manicomiali dell'OPG di Aversa, quindi parliamo di un livello pesante, quelli che di solito non vengono chiamati per nome ma coi numeri, coltivano tutti i giorni su un bene confiscato alla camorra a 40 chilometri da qua. Ma che se noi non riuscissimo a pubblicizzare se comunque noi non li utilizzassimo non conoscerebbe nessuno perché non lo sa nessuno. Perché queste realtà è sempre meglio che stiano un po' là. E anche noi come Luigi invece negli ultimi anni abbiamo deciso di aprirci, abbiamo deciso di farci conoscere, di far entrare cittadini nelle nostre strutture per far capire che non siamo tutti mafia capitale. Ci siamo anche noi, ci sono anche persone sulle quali è giusto investire, ci sono tanti ragazzi e tante ragazze che avrebbero davvero tanto da raccontare. A proposito di prevenzione nel significato più ampio, quindi non solo come prevenzione della tossicodimendenza ma anche come disagio giovanile per la città, la musica come via di prevenzione. Bruno Galasso collabora con la comunità Exodus. Ok, buonasera a tutti. Io mi sento... devo andare lì? Io obbedisco al capo, non è che ci tenessi più di tanto. Allora, siccome è una cosa informale, io dico rapidamente quello che penso. Io sono un misero e piccolo operatore musicale della città come ce ne sono tanti, molto più qualificati se volete, ma sono qui perché per combinazione io da quest'anno collaboro su un gentilissimo invito di Luigi Maccaro e della comunità Exodus con loro per, se vogliamo dire così, alleviare le sofferenze delle persone che qui cercano di rifarsi una vita. E ho scoperto, nonostante abbia io in passato anche avuto esperienze con ragazzi disabili che venivano così da me, ho scoperto anche il piacere di lavorare in gruppo con persone che soffrono, anche con ragazzi disabili che qui vengono chiamati speciali, che in realtà ho scoperto che erano veramente speciali e sono i motori di tutta la nostra piccola comunità pseudo-corale, perché abbiamo qui una specie di coro che abbiamo... voi immaginate che un coro per diventare stabile ha bisogno di 4-5 anni mentre che vengono selezionate come l'orchestra, no? Cioè... Michele, saluto! E quindi un coro formato da persone che vanno e vengono nell'arco di sei mesi cambia la metà dei componenti, non è in realtà... non c'è da fare chissà quale grande musica, però l'abbiamo trasformato in un qualcosa in cui si riflette sul significato dei test e delle canzoni e si fanno riflessioni sulla propria condizione, su perché siamo arrivati qui e come facciamo ad uscirne. Ed è importante perché questa è una delle famose quattro ruote di cui parla sempre Don Mazzi, su cui si regolano le comunità Exodus in Italia. La musica però non solo come prevenzione di questo luogo, c'è un ragazzo con il quale ho parlato, Matteo Paoletti, ho parlato questa mattina con lui con tanta grinta, tanta energia, 18 anni e lui pensa che la musica possa essere anche nei quartieri, no? Un veicolo per poter uscire magari dalla noia. Parlaci meglio del concetto che mi esprimevi questa mattina. Sì, grazie. Niente, io sono uno studente di 18 anni, ho finito quest'anno il liceo e vivo da sempre a Cassino, da sempre vicino alla stazione e conosco molto bene la città e ho visto che quello che si diceva prima, che la piazza è Piazza Labriola, ma se si passa poi la sabato sera, domenica mattina si trovano solo i bicchieri di cocktail e le sigarette buttate per terra, perché è l'unica cosa che unisce in realtà i ragazzi che si ritrovano lì, perché molto spesso molti ragazzi incominciano a bere, a fumare perché non hanno nient'altro da fare, niente di meglio di cui parlare. Io appunto penso che sarebbe uno stimolo importante per i ragazzi è quello di poter suonare, fare sport gratuitamente in maniera offerta dal comune e io volevo dire questa cosa, che secondo me di due cose hanno bisogno i ragazzi, una è di essere tutelati e la seconda è di essere formati. Di essere tutelati perché un ragazzo è meno maturo di un adulto, è più debole e quindi può cadere diciamo in tentazione e appunto vorrei un comune che tutela, quindi ad esempio se gli esercenti vendono alcolici o sigarette nonostante non lo possano fare ai ragazzini, ecco un comune secondo me dovrebbe impedire queste cose perché noi dobbiamo essere tutelati e poi dobbiamo essere formati perché noi siamo come si dice sempre il futuro, ci chiamano sempre futuro però i ragazzi che hanno idee sono pochissimi e la maggior parte saranno come la maggior parte delle persone, cioè disinformati, svogliati e un comune secondo me dovrebbe insistere su pochi temi fondamentali come ad esempio l'ambiente ma non in maniera così superficiale, l'ambiente vuol dire incentivare l'uso delle biciclette, siamo una città piccolissima, cioè si può arrivare con la bicicletta ovunque, non c'è bisogno di iniziare. Grazie Matteo, stai toccando dei temi veramente a largo raggio però insomma tutti temi veramente anche pratici e reali, reali di questa città, c'era anche Cristian Francescone che a proposito del cuore della città, di questa piazza che Salotto proprio non è, che voleva appunto lanciare una sua idea della visione proprio della nostra città. Se ti avvicini un attimo, anzi mi avvicino io però per una questione di telecamere ci chiedono di non muoverci. Bene mi presento, sono Cristian Francescone, anche io ex studente del liceo classico Carducci, da un anno che studia a Roma economia però comunque i temi della mia città li porto sempre al cuore ed è per questo che Marino mi ha chiesto di rappresentare i giovani di questa città e io diciamo ho cercato di rispettare il ruolo che mi ha chiesto di fare e questa settimana tra virgolette mi sono vestito di questa autorità e sono andato ad intervistare i miei coetani, comunque i giovani in generale, per capire quali sono non tanto i problemi perché ovviamente quelli non mancano mai ma piuttosto quali sono le soluzioni, quali sono le iniziative che questi giovani appunto vogliono proporre ad una lista civica che diciamo è ricca di nuove iniziative, di nuove proposte, ebbene ovviamente come potete ben immaginare il tema a cui i giovani tengono di più maggiormente è il tema della piazza, la tematica piazza che diciamo alla quale bisognerebbe dedicare più attenzione e quindi i giovani che cosa vogliono proporre? Vorrebbero proporre un vero e proprio restyling di questa piazza, un restyling di una piazza che dovrebbe essere mirata, finalizzata a creare un nuovo palcoscenico della cultura locale, palcoscenico della cultura locale che cosa intendo? Intendo ad esempio la creazione di un piccolo palco all'interno di questo luogo pubblico dove nuove giovani proposte si possono esibire, mi riferisco a livello musicale, a livello teatrale e restyling anche diciamo incentivando queste iniziative come ad esempio tornei di beach volley, comunque attività sportive a cielo aperto che dovrebbero essere comunque sempre ben presenti durante il periodo estivo. Cristian, grazie, dobbiamo un attimo stringere un pochino gli argomenti perché sono veramente tanti. Tu hai toccato un argomento importante che è quello anche dell'arte e della cultura, possiamo considerare l'arte e la cultura ancora come una parte dell'economia della città? Stato lì? Ma questa è la cultura, posso stare pure in piedi? Noi siamo derelitti della cultura, poveri derelitti, anche perché ci ritroviamo sempre qui a lamentarci, quanti secoli sono con Luigi, con la comunità 22 anni fa cominciamo il CUT, la comunità a lavorare con le scenografie, laboratori, abbiamo fatto epoca. Il problema è che ci ritroviamo a dire sempre le stesse cose. Sono prossime la campagna elettorale, cioè le elezioni ed ecco che ci ritroviamo a dire sempre le solite cose. Ma quando è che si faranno questi dibattiti dopo le elezioni? Porcaccia la miseria! Dopo le elezioni, non prima. Facciamole dopo. No, no. A me delle elezioni non me ne frega. Oh, subito dopo le elezioni, nominato, gli amministratori sentono i cittadini. L'ultima volta che erano elezioni regionali, mi chiamarono per un convegno a Castrocello sulla cultura, il responsabile del prologo. Giorgio facciamo una cosa sulla cultura, devi venire, mi pare che c'eri pure tu. E io dissi, ma scusate, ma perché? Io già lo so, vengo, facciamo sta cosa, dopo che finite le elezioni non c'è, ti giuro, faremo un tavolo fisso per la colpa. Spariti, spariti. Allora il discorso è che fondamentalmente della cultura alla politica non gliene è mai fregato niente. Ora il termine cultura, calma, è talmente vasto, parliamo di formazione, di intrattenimento, di socializzazione, cos'è la cultura? Allora, quali forme della cultura? Sentire parlare un giovane dicendo i giovani vogliono, a me mi sembra, perché io ho fatto politica quando avevi la tua età nel partito comunale FIGC, la federazione giovanile, e dicevamo questo, i giovani vogliono, i giovani non lo sappiamo quello che vogliono, perché sono una categoria vasta, non esiste, c'è chi vuole fare lo sport, c'è chi vuole andare a donne, soprattutto a uomini, perché quello giustamente per l'età è il loro ruolo. Vogliono incontrarsi, poi si ubriacano, vanno a ballare perché si disinibiscono per poter avere il coraggio di approcciare alla ragazzetta o il ragazzetto, perché prima erano i ragazzi che approcciavano, adesso si è un po' bilanciata, non diciamo invertita, ma bilanciata, e giustamente quella è l'età in cui i ragazzi vogliono divertirsi, in questo senso il loro fine, soprattutto stare insieme perché è l'età. Ora, a questa cosa dello stare insieme per conoscere il ragazzo, per conoscere la ragazza, magari gli si può dare anche un po' di cultura, no? E cercare di farli socializzare, creare dei punti di incontro attraverso cose un po' più alte che non siano la droga, l'alcol, e dargli l'opportunità di conoscere, fidanzarsi, uscire insieme, divertirsi, perché è quello poi. Allora, non serve un palchetto in una piazza, non è quello. I gruppi musicali che vogliono esibirsi, altra cavolata, lo fanno perché noi c'è quest'ego, dobbiamo diventare famosi, tutti che vogliono diventare famosi, io dico fate perché volete fare, per il piacere di fare. Perché fate cultura, perché fate teatro, perché fate musica? Non lo so, perché lo voglio fare, punto. E invece c'è questa cosa, anche i gruppi musicali, e c'è sta cosa del divismo, dobbiamo arrivare, dobbiamo legare, sbagliato. I giovani dovrebbero avere strutture come questa, dove magari possono pomiciare, se vogliono, conoscersi, fare amicizia, divertirsi, ridere, scherzare e magari vedere una mostra di pittura, fare pittura, magari conoscersi proprio mentre si dipinge. Abbiamo fatto un progetto di bioteatro e bioarte a Roccadarci, 15 giorni, una cosa terribile, senza una lira. I ragazzi pagavano pochi spicci per partecipare che non ci dà una lira a nessuno, quindi il sindaco di Roccadarci faceva un monumento. Per le vie, nelle piazze, facevano teatro, canto, canto bio, tutto legato al bio, nel senso naturale, dovevano tirare fuori se stessi. Si sono incontrati, si sono divertiti, non volevano finirla più. È un modo per farli socializzare divertendosi. Se si deve fare istruzione è una cosa, è pesante. Formazione, gli si dà un obiettivo, ti prepari perché puoi fare questo da grande, voglio dire. Per esempio un corso di fotografia, c'è gente che dice ma potrei fare il fotografo, l'attore, anche se io dico sempre scordatevi di diventare attori, fatelo per voi stessi, poi è un ternallotto se vincerete. Io vorrei passare questa visione della cultura ad ampio raggio, come insomma è stata trattata fino a questo momento, anche con il maestro Sant'Orsola. Mi avvicino così do la possibilità anche al maestro di dire la sua. Grazie, buonasera a tutti. Normalmente vado davanti al pubblico quando dirigo, oppure quando faccio concerti. Non ho una voce diciamo prepotente da attore, ce l'ho abbastanza bassa, abbastanza roca. Allora io innanzitutto ringrazio Marino per l'invito, ci siamo incontrati qualche settimana fa per caso, per caso è vero, su a Valle Rotonda insieme a degli amici e niente, da lì è nata la proposta di invitarmi per questo incontro con gli amici di Cassino. Premetto che non sono un cassinese, un cassi... Cassinese? Doc. Cassinese? Cassinate? Va bene, va bene. Allora sono un molisano trapiantato nella ciociaria, lavoro in Calabria, sono docente di titolare di Oboe, presso il Conservatorio di Vibo Valencia e allo stesso tempo ho anche la cattedra di esercitazione orchestrale. Ho il piacere di rivedere qualche amico qui, Bruno, che mi lega a lui, grazie anche ad un'amicizia molto profonda con il maestro Di Meo. Beh, era giusto comunque nominarlo. E poi ho rivisto anche Giorgio Mennoia. nonché anche Luigi. E spero comunque di conoscervi tutti da vicino durante, prima e dopo le lezioni. Allora, la mia esperienza è molto semplice su Cassino. Ho avuto modo di collaborare, di fare anche dei progetti anche per l'abbazia molti anni fa, tra cui il Requiem di Verdi, con l'orchestra sinfonica e coro della città di Grosseto. Ecco, l'orchestra sinfonica della città di Grosseto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la città di Grosseto è, ha un'orchestra sinfonica e un coro, ha il logo del comune ed è immagine principe di una città e diciamo anche di una cultura. Che cosa è la cultura? La cultura non è altro che le radici di noi stessi. Se non c'è cultura non c'è radice e noi non possiamo rispecchiarci in nulla. Cassino purtroppo pecca in questo. Io sono una persona molto diretta e marino che mi ha conosciuto in questi pochissimi giorni. Cassino purtroppo ha bisogno di cultura perché cultura è turismo. Se si sa investire in cultura sia il ritorno del turismo. Molti turisti arrivano in Abbazia, però cosa fanno? Mi sembra di aver capito e compreso in questi anni, vanno via. Perché non c'è una programmazione alla base. Una programmazione di arte, di cultura. Ma cultura non è soltanto musica. Cultura è arte visiva? Perché no? Arte culinaria? Perché no? Quindi io spero vivamente che il futuro sindaco della città di Cassino possa ampliare e possa avere uno spettro d'azione molto profondo e non circoscritto a soltanto delle manifestazioni che vanno soltanto ricordate a Natale, Pasqua e Capodanno. Grazie per il contributo. Da qui prenderei spunto per una serie di argomenti che riguardano il turismo e l'economia. Però per altre ragioni passiamo subito a parlare invece dell'ambiente che in qualche modo comunque è stato toccato. Io vorrei fare una chiacchierata con il dottor Angelo Spallino. Io lo so che era dura questa cosa. Lo sapevo da giorni che avevo l'ansia. Allora conosco Angelo Spallino da vent'anni e per me è da più? No, da venti, ti prego? Era da venti anni. No, 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 no. Eh vabbè, sono venti. No, sono venti. No, sono venti. Ero proprio vent'anni. Allora, sono vent'anni che ci conosciamo e che ci mettiamo in difficoltà ogni volta che ci incontriamo. Stavolta cerchiamo di essere più semplici. Va bene? Allora, una battaglia che porti avanti da sempre l'ambiente ma soprattutto la qualità della vita. La qualità della vita a Cassino e voglio insomma lanciarti la possibilità di parlarci di questo perché sicuramente il commercio e tutta un'altra serie di attività ci piacciono però per i residenti sicuramente diventano un disagio e una sofferenza. No, non ho detto tutto, assolutamente. Ho bisogno di sentirti per una volta tranquillo, non guardare me, guarda il pubblico. Veramente noi ci becchiamo, sono vent'anni. Salve a tutti, sono Angelo Spallino dell'Associazione Italia Nostra. Mi hai fatto ricordare cose incredibili. Aveva un ciuffone dei capelli incredibile quando facciamo le trasmissioni in una tv locale su grandi argomenti. Belle battaglie. Noi parliamo di Giulia adesso, no? E' la fantastica Giulia macchina. Ma qualcuno dimentica che qui a Cassino, venti e qualche anno in più fa qualcuno aveva già organizzato che la Fiat diventasse un termocombustore di rifiuti industriali della Fiat di quasi tutta Italia. Cioè si parlava di buciare rifiuti industriali per 1.200.000 tonnellate. Trattare e buciarne 700.000. Io ho preso una broncopolmonite un giorno al comune di Piedimonte San Germano per studiarmi tre faldoni del progetto perché l'ambiente era freddo e cose varie. E misi il punto su 145 incidenti, di cui 75 che avrebbero richiesto la chiusura dell'impianto immediato e su quello fortunatamente siamo riusciti a vintere la battaglia. Stiamo a Cassino, ma dimentichiamo la grande battaglia sull'Acquedotto Campano. No, qui nessuno la conosce più. Venti e più anni fa gli amministratori si hanno fatto trovare una stazione di pompaggio di via Appia e 33 pozzi profondi 300 metri da cui si devono prelevare 6.000 litri. È stata una grande battaglia, molto sangue e molto sudore. L'abbiamo vinta perché abbiamo fatto dimostrare dalla procura che il prelevo profondo sarebbe stato esiziale per Cassino, un terremoto e il terremoto ci fu, proprio causato dal prelevo di prova che si faceva. Obiettivo Cassino è un bel argomento perché Obiettivo Cassino probabilmente durante la seconda guerra mondiale era contenuto nei dossier di guerra per bombardarla. Obiettivo Cassino è stata, come diceva mi sembra Fardelli, quella di chi l'ha ricostruita in un posto dove non andava assolutamente ricostruita, sulle sorgenti più belle d'Europa. Quindi già nasciamo proprio male, voglio dire. Siamo nati molto male, sotto il monte perché dovevamo stare ancora sotto il monte e le campane alle 5 del mattino ancora per 20 minuti suonano come facevano 500 anni fa per chiamare i contadini al lavoro. Una città che ancora non ha per un terzo le fogne signori. Quando si parla di ambiente, io poi ormai a 66 anni divento un attimino una belva perché ne abbiamo parlato tante volte purtroppo. Obiettivo Cassino è stato per quelli che hanno fatto della speculazione sul ciclo dei rifiuti, sbagliato, volutamente sbagliato. Eco-mafie. Non sono Don Ciccillo Pasquale, Pasqualotto di Afragola che porta il camion di immondizia sotto il ponte. Sono quelli che vi vengono a dire e sintetizzando come mi disse il procuratore della Repubblica che la raccolta differenziata era una scelta della pubblica amministrazione e non è vero. La raccolta differenziata è nel 1997, legge dello Stato. E allora a base di questa ignoranza obiettivo Cassino, voi sapete, sono stati interrati rifiuti, sono stati mescolati a laterizi rifiuti a Cassino. Prima è stata fatta una raccolta di rifiuti sbagliatissima con l'impianto di Col Felice, che non serve a nulla, si sapeva. Ha operato per vent'anni portando poi l'immondizia, transitando l'immondizia. Poi hanno costruito il termocombustore di San Vittore, ma è collegato a Col Felice. Poi hanno triplicato il termocombustore di San Vittore. Ha una fame incredibile e arrivano rifiuti da ogni parte. Ancora adesso a Col Felice arrivano 30 cami di rifiuti di raccolta indifferenziata al giorno per poter dare combustibile a San Vittore. E San Vittore, il venticello, arriva fino a noi. Abbiamo richiesto indagine sulla diossine, sulle varie diossine, sul latte di donna, sull'uè. Costano, nessuno le fa. Allora, obiettivo Cassino. E' un grande impegno perché purtroppo Cassino, come diceva giustamente Maccarò, ha delle forze, anche giovanili. Tu forse non ti ricordi di me. Forse sono stato il tuo pediatra. Io ho operato bene perché ti ho sentito parlare, hai perfettamente ragione. I giovani devono parlare, ma noi, anziani, maturi, dobbiamo cercare di canalizzare e di capire quello che vogliono. I giovani, come diceva lui, soprattutto devono essere amati, compresi. Quando li amiamo, li rispettiamo e li stiamo a sentire. Per cui, per finire, noi abitiamo in una città in cui la qualità della vita purtroppo è altamente degradata. In cui i rilievi delle centraline di rilevamento sono sistematicamente non letti, di cui non si tiene conto. È una città inquinata in cui, da pediatra, vi dico, aumenta in maniera esponenziale i problemi della salute dei bambini. E noi diciamo sempre i diritti dei bambini. Ma che? Una società in cui, quando parliamo di qualità della vita e quando parliamo di musica, però dobbiamo unirle. Non che a luna di notte, al campo Baden-Powell, di fronte a due persone, la mamma e la zia di qualche... Che amo questi ragazzi, perché i miei figli facevano... A luna di notte propagavano 100-110 decibel dentro le case della gente che doveva dormire. Ora cominciamo a unire queste due cose che sono molto importanti. A Cassino il commercio, si parla solo di commercio. Lo ricordate quando c'era un giganto manifesto all'ingresso di Cassino, dove era scritto Cassino città del commercio. Va bene, ma l'importante è che non sia Cassino città dei commercianti in cui si tiene solamente conto dei diritti dei commercianti. Finisco con un argomento di cui sarete investiti probabilmente con un referendum. La funivia. La funivia. Lì si dice che sarà il volano dell'economia di Cassino. Probabile. Si può dire di tutto. Io vi dico semplicemente che l'attuale amministrazione... Perché attenzione, funivia e cabinovia, facciamo una distinzione, la cabinovia prevede 10 piloni su Monte Cassino, 16 vetture che vanno e 16 che vengono. La funivia prevede un solo pilone e due cabine, una che va e una che viene. L'impatto è minore. L'Italia nostra è sempre stata favorevole alla comunicazione via fune. C'è solo un problema. Penso per cui non si farà la funivia. Perché da una parte è l'elemento ambientale fondante. Se non fai andare gente a Monte Cassino con l'autobus e con la macchina risparmi 9.000 tonnellate di CO2. Che tornano qui a Cassino. La CO2 scende, non sale. Però io penso che questo qui non si possa fare, chiudere la strada. E siccome questo qui è il momento topico, il punto economicamente, per le società che la dovrebbero costruire, non si farà. Però sul progetto Funivia, tutti quanti adesso si stanno strappando i capelli. Ci sta gente che dice, ah, le sorgenti, la villa comunale. La villa comunale. Molte associazioni e molti di quelli che si strappano i capelli. Se ne ricordano solamente quando la devono sfruttare a livello elettorale. Adesso, e ne do pubblicamente atto, se è andata la villa comunale, è vivibile. Perché? Perché i ragazzi di Exodus sono intervenuti e hanno fatto quello che una amministrazione dovrebbe fare. Noi puliamo il laghetto, leviamo i rifiuti, cerchiamo di fare educazione e cose varie. I problemi a Cassino sono tanti. Io spero che Cassino non sia l'obiettivo di guerra. Ma io, come diceva Giorgio Mennoia, non si dicono queste cose. A me delle elezioni non mi interessa niente di fronte a un candidato sindaco. Voglio dire, non è così. La politica è importante e seria. L'importante è che riusciamo a creare con il politico un momento di dialogo serio. E quando diciamo le cose, no, quando diciamo le cose serie, il politico ci sa sentire. E penso che Fardelli ci starà a sentire. Grazie. Grazie, dottor Spallino. Passiamo dall'ambiente a Francesco Altieri. Io, Francesco, ho subito una cosa, un sassolino che mi devo togliere. Non con te, ovviamente. Se puoi venire così parli a tutti noi. Non so se siete passati ultimamente su Viarno, ma c'è parcheggiato un circo. E passando nessuno, insomma, penso che avrà da ridire. A meno che qualcuno non ha proprio quell'amore per gli animali, per quella sensibilità, e ne facciamo una questione morale etica. Ma ci sono 180 bambini che sono in quella scuola. Nella scuola a un metro c'è, scusate, liquami, letame, insomma, rifiuti di tutti i generi. Nella scuola non si respira. E questa cosa mi accalora perché io porto il mio bambino. Quindi entrando la mattina veramente non si poteva stare. Per cui nessuno, insomma, si è posto la questione di vicino a una scuola, cavalli che girano, elefanti che infilano la proboscide. È una cosa bellissima vedere questi animali, però andiamoli a vedere da un'altra parte. Se non possiamo farne una battaglia etica e morale, ne facciamo una questione sanitaria? Allora, prima di tutto mi presento, Francesco Altieri. Sono un volontario animalista ambientalista e rappresento in provincia di Frosinone e Lampana, che è una piccola associazione nazionale, a carattere nazionale. iscritta alla Regione Lazio, quindi con le carte in regola, come diceva Luigi Maccaro. La questione che poni ogni tanto viene riproposta. In effetti andrebbe modificato il regolamento che permette di fare queste cose. Premesso che dietro a un circo c'è solo dolore, questo lo vogliamo dire. Sì, da animalisti... Però andiamo alla questione gianico-sanitaria. Sì, noi siamo contro i circhi con gli animali. A prescindere. C'è un regolamento comunale di protezione animali che con grandi difficoltà siamo riusciti però a far varare dall'amministrazione finalmente, dopo circa 15 anni di depressioni. E lì in effetti viene vietata l'utilizzo di animali per le manifestazioni. se gli animali vengono trattati male. Chiaramente quello è l'aspetto... Dipende da cosa si intende per trattare male. C'è un elefante che sta in una gabbia, non penso che sia trattato bene. Cosa si intende questo? Però lasciamo stare questo aspetto. Sì, sì, l'aspetto... Io volevo parlare del fatto che 180 bambini ogni giorno vengono innanzitutto provocati, perché vengono provocati quindi anche una questione educativa. perché ho visto io con i miei occhi che cercano di far passare i cavalli davanti le aule, davanti le finestre, proprio per far arrivare il bambino a casa per un fatto commerciale. E' anche una questione igienico-sanitaria. C'era tanto di... Assolutamente. Secondo me un esposto lo potete fare tranquillamente. No, 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 ma non siamo qui per dire questo. Era soltanto per capire. Esistono dei regolamenti, delle leggi che vietano? Assolutamente, assolutamente. Lo volevamo sapere. Noi ci auguriamo e si potrebbe sapere anche tranquillamente che questo circo abbia le carte in regola, perché in effetti prima di poter occupare un suolo pubblico è così delicato, ubicato, che là non andrebbe proprio fatto il circo e non ci dovrebbero nemmeno essere i cavalli di non so chi, perché questa è un'altra brutta abitudine del nostro comune, dove ogni tanto camminate, vedete i cavalli che non si sa di chi sono, che pascolano liberamente. Poi magari se io metto uno stand sul suolo pubblico mi vengono a fare la sanzione, perché dice no, tu stai sul suolo pubblico, i cavalli possono stare. Questo fa parte della cultura, dei retaggi, che i giovani come l'amico onorevole Fardelli spero che riescano a cambiare questa mentalità. No, il dottor Spallino mi diceva che addirittura volevano posizionare il circo a Piazza Green. Ah, bellissimo. E perché sì, c'è un pool di esperti in effetti, che sceglie il posto peggiore, non il posto migliore, giustamente. Però Francesco, questa voleva essere una nota, è una questione importante, è una questione veramente importante dal punto di vista educativo, etico, morale, igienico e sanitario. Lavorarci e la politica ci deve dare la sponda. Detto tutto questo, esiste quindi un regolamento che vieta. Ci siamo chiesti chi ha potuto mai dare le autorizzazioni per una cosa del genere, però andiamo avanti. Francesco Alteri si occupa anche di randaggismo e della questione dei cani a Cassino, che non è una questione da poco, perché anche questa è una questione importante. Assolutamente. Anche a livello economico per l'amministrazione comunale. Il randaggismo in provincia di Frosinone è un problema enorme, perché sottrae una serie di risorse dai comuni e fa soffrire degli animali. Purtroppo manca anche in questo settore una programmazione, un'opera di prevenzione, come si dovrebbe fare anche in tutti i settori. Sta uscendo fuori questa cosa, che non si fa prevenzione, non si progetta. Quindi anche in questo senso, parliamo di cifre importanti. il Comune di Cassino spende 130 mila euro all'anno per i cani che stanno al canile. La cosa positiva dell'amministrazione attuale, che finalmente ha fatto insediare la consulta per l'ambiente, poi quello che abbiamo fatto è stato anche poco, però ci siamo visti, ci siamo confrontati. Un'ultima battuta, Francesco, perché... Sì, va bene, insomma, ci sono dei progetti in cantiere per la soluzione di questi problemi per quanto riguarda il randaggismo. Purtroppo sembra che si arenano questi progetti. Il motivo spesso addotto è quello economico. Spero che non ci sia poi qualche volontà politica che blocchi queste iniziative che porterebbero solo il giovamento sotto l'aspetto animalista, ma anche sotto l'aspetto economico e culturale per la nostra città. Concludo ringraziando l'onorevole che ci ha invitati e che in effetti il discorso della città che vorrei, io in tempi non sospetti, ho fatto una paginetta su Facebook, la città che vorrei, due punti, Cassino, e quindi l'idea è proprio, ecco, da giovani, dialoghiamo e vediamo quale città vogliamo, mettiamoci d'accordo. Grazie e buon progetto. Grazie, grazie, grazie Francesco. Non possiamo, siamo quasi alle battute finali, però arriviamo alla parte dell'economia di questa città. Abbiamo parlato dei giovani, abbiamo parlato del turismo, anche se abbiamo parlato anche della cultura e dell'arte in maniera, diciamo, un po' ampia. Volevo parlare subito con Umberto Sorrentino perché ci riagganciamo ai giovani e arriviamo al tema dell'economia perché Umberto Sorrentino ci ha parlato prima, anche se velocemente, però di un'idea molto, molto interessante. Buonasera a tutti. Ciao Marino. Allora, brevemente. Io mi occupo di fondi strutturali, sono stato per anni al Ministero dell'Università della Ricerca dei fondi strutturali e diciamo sono figlio di questa terra perché sono venuto a Cassino all'età di 5 anni e quindi mi sento cassinate a tutti gli effetti. Poi chiaramente dopo l'Università, inizia dall'Università e via dicendo, sono andato a lavorare fuori e ho girato tutta l'Italia. Girando l'Italia sia per almeno 15 anni all'interno del Ministero e poi facendo progetti per conto di grandi aziende multinazionali e anche piccole aziende, le famose PMI in giro per l'Italia tra cui anche in Nuova Lazio in Nuova Puglia Calabria Trento e ho notato che c'è un problema di fondo specialmente per i giovani. Il problema di fondo qual è? È quello che mancano i flussi di informazione ai giovani. Perché? Perché praticamente adesso è uscita la nuova programmazione Horizon 2020 stanno uscendo i nuovi bandi tra cui è uscito anche il bando sull'imprenditoria femminile però quanti di voi sanno il bando di che cosa si tratta? Come presentare un bando? Come un progetto? Come presentare un business plan? Con chi andare a parlare? Quindi l'idea così che ho avuto parlando anche con Marino è quella che si potrebbe fare insieme attraverso un ufficio del comune attraverso una società pubblica o privata a costo zero la cosiddetta casa delle idee ho trovato uno slogan la casa delle idee per i giovani dove qualsiasi giovane può venire lì può venire a chiedere delle informazioni e noi lì li potremmo offrire sia la parte di pianificazione finanziaria sia la parte di progettazione che la parte di rendicontazione che di ogni progetto poi ripagherebbe la struttura stessa quindi al costo zero è un'opportunità che si può dare a questi giovani i banditi adesso della regione Lazio riguardano ogni settore quindi dal turistico dal alberghiero dal sociale al commerciale però poi alla fine se andiamo a vedere chi è che fa questi progetti sono o le grandi aziende o sono quelle PMI che poi si rivolgono a consulenti in giro per l'Italia quindi noi potremmo un'idea per i giovani sì come diceva ieri Zingaretti che praticamente gli ospedali sono vieni noi facciamo un pronto soccorso facciamo degli spazi dove accogliere le persone per poi ridistribuirle in ogni settore per la propria malattia noi potremmo fare un pronto soccorso la casa di idea dei giovani dove far venire i giovani lì ognuno dice la propria idea vediamo se queste idee sono valide e poi vediamo se possiamo poi accompagnarli su dei progetti li possiamo accompagnare a Cosilam li possiamo accompagnare ai centri di ricerca li possiamo accompagnare all'università possiamo fare interagire tutti quanti mi viene in mente a questo punto ti dico due tre cose al volo di progetti così di ragazzi che ho conosciuto negli anni due ragazzi di Trieste dieci anni fa sono venuti da me insieme a altri amici e praticamente avevano un progetto semplicissimo che era un progetto informatico di una signorina che parlava in maniera virtuale noi l'abbiamo presa abbiamo sposato il progetto l'abbiamo portato a Telecom ed è l'attuale segreteria telefonica virtuale del 187 grazie di start up innovative a Cassino ce ne sono volevo salutare anche Benedetto Pacitto che mi sfugge in questo momento vi saluto soltanto perché purtroppo non abbiamo molto tempo però vi menziono perché Benedetto Pacitto Peppe Marra è tutto il gruppo della ISI Code per il progetto Comunica City quindi start up innovative a Cassino ci sono si possono creare con anche difficoltà perché insomma però non avete scelto di emigrare quindi di uscire fuori da quest'area ma di lavorare qui il tema è duplice allora il tema è primo creare una struttura che accolga i giovani per le idee quindi pre start up e quindi cercare di fare delle start up e poi successivamente di supportare le start up esistenti perché poi le start up esistenti su dei progetti che hanno fatto poi chiaramente devono essere eseguiti su altri progetti ma giustamente mi rivolgo per esempio a loro poi dove vi rivolgete per i progetti di ricerca alla fine è così perché poi si devono trovare le sinergie con l'università in giro per l'Italia su aree tematiche su mi voglio fermare su questo tema volevo far fare una battuta anche a Gianluca a Gianluca Grossi se mi può raggiungere un attimo perché parlavamo appunto di start up e parliamo a questo punto anche di sviluppo locale sì io sono impropriamente seduto qui non sono avvezzo diciamo a stare davanti a un pubblico comunque io da cittadino voglio fare una riflessione anzi invitarvi ad una riflessione io vorrei Cassino faro di un territorio ampio qui ci siamo persi una decina d'anni di sviluppo locale significa che adesso lo sviluppo dobbiamo creare le condizioni vanno create mettendosi insieme questo vuol dire uno ambiente associazionismo quindi impresa o terzo settore che comunque è importantissimo ma prevalentemente i sindaci i comuni devono stare insieme i progetti sono tutti d'aria ma sono 10 anni che è così allora c'è l'ambiente faccio un esempio c'è il contratto di fiume se non diamo in amministrazione mi dispiace lo dico ho anche una grande consapevolezza di quello che dico qui non so neanche di che stiamo a parlare lo dico proprio così alla romana o alla mezzo cassinese allora il contratto di fiume porta finanziamenti quindi porta è una modalità per esempio per rendere vivibile oltre che eliminare impatti ambientali è vivibile anche per esempio l'area del nostro fiume ad esempio perché lo devono fare solo ed esclusivamente i comuni ad esempio di posta fibreno vi dico cose reali questo è banale ma non lo è in effetti perché questo porta finanziamenti la stessa cosa digasi per i progetti adesso ne parleranno ovviamente persone molto esperte tra poco chiaramente qui parliamo di goal quindi di proposte del territorio se i comuni non si mettono insieme e fanno progettualità è chiaro che rimane un progetto singolo del comune sembra strano ma oggi i progetti a pioggia e quindi puntuali forse vanno più piccoli i comuni perché non hanno la capacità di spesa e non hanno la capacità diciamo la grande capacità aggregativa i grandi comuni devono essere un faro noi siamo il secondo comune della provincia di Frosinone e stiamo all'anno zero ma sono dieci anni che i ragazzi sono andati avanti e non è che sono andati avanti solo in Emilia Romagna e in Toscana qui vanno avanti anche per esempio a Nanni Ferentino c'è l'accordo di programma quadro non so se i più lo sanno di cosa parlo che riguarda la video con Fiuggi al turismo Fiuggi comune sta in quel accordo di programma quadro che significa questo? non è che qualcuno è andato a chiamarlo il sindaco di Fiuggi significa il sindaco di Fiuggi è andato là a dire io ci sto quindi questi sono soldi che facciamo per il turismo nella mia zona e anche ovviamente per le attività e si è inserito in un ragionamento ma se noi questo non lo facciamo e quindi che significa? se noi abbiamo la cultura di stare insieme quindi gli amministratori devono stare insieme il turismo e chiudo noi non possiamo pensare che abbiamo ristrutturato Roccaianula piuttosto che non so che cosa abbiamo fatto l'istoriale ma chi ci va l'istoriale se io non faccio un progetto d'area perché io non attrago il turista che viene a Cassino a Cassino mi viene per Monte Cassino mi va a Dio che c'è siamo tutti felici e contenti ma appunto io non porto economia non intervengo sul sociale perché se porto economia probabilmente forse dico forse magari c'è qualche disagio in meno non lo so ma questo ce lo vogliamo porre non possiamo sempre solo starci a lamentare sono stato revisore e finisco qua il comune di Cassino per sei anni quindi ho finito a gennaio a lamentarci sul fatto che non ci stanno i soldi e ci sono i debiti fuori bilancio che poi non è probabilmente così però mi sto zitto e quindi è chiaro che l'amministrazione deve fare l'ordinario e quello che me l'aspetto da cittadino ma se non siamo in grado di cogliere queste opportunità non riusciamo a creare sviluppo questo è il concetto adesso c'è una grandissima opportunità che riguarda ad esempio la Fiat ne parleranno ovviamente chi chi è più più dentro insomma la materia è tutto questa è un'opportunità importante però io mi aspetto di vedere questo sindaco e quello futuro essere il protagonista di questa roba cioè non ci può passare addosso perché se no stiamo solo a piangerci addosso questo è il concetto grazie 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 Gianluca sempre molto molto dentro a questi argomenti e a proposito dell'impresa e di fare rete volevo parlare con Marina Lanorcia che è esperta in comunicazione di impresa e su questo su questo tema soprattutto ripeto della rete rete di fare impresa che è molto molto importante per quanto riguarda l'economia e lo sviluppo locale allora io sono Marina Lanorcia come ha detto Tiziana e faccio parte di un'organizzazione che si chiama la CICAS ma adesso a prescindere da tutto questo io sono Marina caro Marino abituata a lavorare su cose concrete noi vogliamo dare voce alle aziende vogliamo dare voce ai progetti vogliamo creare sinergia e mi auguro tanto che tu possa rispondere a questo a questa voce è un'organizzazione che sta crescendo sul territorio e dei dei ce ne abbiamo tante e il problema è comunicarle e per questo ci sono io qua quindi io mi auguro caro Marino di poter collaborare con te ma non soltanto fare chiacchiere perché a noi non ci interessa fare chiacchiere ci interessa essere propositivi sul territorio quindi io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e speriamo di incontrarci allora grazie Marina Lanorcia Marino io credo che tu debba concludere sì c'era Chiara di Gerio però ci arrivano una serie di battute va bene allora concludiamo io pensavo anche di accelerare magari per dare spazio al dibattito sulla Fiat che si collegava benissimo a questa parte economica Chiara di Gerio eccoci qua questo è il microfono è una giovane che ha portato avanti uno studio uno studio particolare sul turismo ed è molto molto entusiasta di raccontarcelo di parlarci di questo studio e ha fatto anche delle pagine per meglio raccontarci questa sua idea che ha studiato è una laureanda attorvergata spiegaci un attimo meglio di te parlaci un attimo meglio di questo progetto buonasera io sono Chiara di Gerio laureanda specialistica sempre in economia attorvergata e praticamente il comparto di cui mi occupo questa sera già ne ho sentito parlare spesso è proprio riguardo il turismo innanzitutto come vorrei iniziare da qualche battuta diciamo sulle nozioni generali rispetto a quello che è il turista in modo che riusciate tutti a capire quello di cui sto parlando e poi entrare proprio nelle idee rispetto relative a Cassino allora innanzitutto il turista è colui che viaggia nei paesi diversi appunto da quello di residenza e per notta negli stessi per un periodo di almeno una notte e meno di un anno almeno di una notte e per un periodo inferiore appunto ad un anno in realtà ci occupiamo però adesso di una figura particolare di turista che è l'escursionista ossia colui che visita il territorio visita un certo paese una certa città però senza per notare che in realtà è quello che proprio caratterizza la nostra città quindi in realtà quello che noi vogliamo fare è proprio cercare di mantenere e di far sostare appunto questa persona quindi secondo il tuo studio praticamente noi abbiamo un turista che arriva visita e riparte che è poi quello che dicevano anche loro esatto quindi innanzitutto parlo di quelli che sono i tre comparti quindi il turista appunto quello che deve vivere l'esperienza i servizi turistici che sono offerti quindi attività ricreative e attività ricettive che comunque sono presenti nella zona che devono quindi rispondere a quelli che sono le esigenze appunto del turista e infine il territorio e nel territorio c'è proprio un elemento fondamentale che riguarda la comunità locale capace di trasmettere quelle che sono le tradizioni le origini i saperi antichi e quant'altro ed è proprio su questo elemento che appunto mi voglio focalizzare perché? Perché come facciamo a comunicare comunque noi la nostra città all'esterno e quindi al turista se noi stessi comunque non siamo in grado e non conosciamo le potenzialità appunto di Cassino cioè lo stesso abitante molti anzi e infatti la ricerca che appunto è stata condotta e di cui avete appunto delle risposte riguardano alcune delle risposte appunto del questionario riguardano proprio delle domande che sono state fatte ai cittadini di Cassino per quanto riguarda appunto un unico museo che riguarda il museo dell'archeologia nazionale che si trova vicino al K2 perché effettivamente è bene ribadirlo in quanto molti nel momento in cui facevo proprio queste domande mi dicevano ma di quale museo stiamo parlando è quello che sta vicino al K2 è quello che si trova quindi questo già mi ha spiazzato un po' questa risposta e si nota effettivamente da queste risposte dovrebbe essere più è la pizzeria vicina al museo forse la domanda doveva essere questa invece noi facciamo la domanda al contrario cioè il museo è quello vicino alla pizzeria questo per quanto riguarda appunto una domanda relativa appunto a questo questionario riguarda proprio la soddisfazione di colui che è andato a visitare del cittadino che è andato a visitare questo museo che è una soddisfazione moderata e questo sinceramente anche io sono andata in questi giorni comunque a vederlo l'ho visto già svariate volte comunque è una soddisfazione motivata dal fatto in soddisfazione in un certo senso motivata dal fatto che comunque è poco interattivo è poco attraente soprattutto poco informato cioè garantisce poca informazione e infatti lo posso notare per il semplice fatto che comunque sono andata e ho chiesto guide in altre lingue e in realtà cioè non ce ne sono cioè c'è soltanto la lingua in inglese c'è in italiano e le brochure in italiano e quindi tutti gli altri soprattutto perché noi abbiamo un grande turismo comunque polacco eccetera non abbiamo proprio neanche gli strumenti appunto per interagire per farlo quindi la mia idea proprio relativa adesso per questioni di tempo ci dediamo soltanto a questo museo è quello di creare appunto un'interazione rendere più attrattivo e interattivo appunto questo museo come ad esempio relativo a questo allo stesso attraverso delle attività di manipolazione delle attività di scavo e quant'altro naturalmente questo può essere applicato poi a tutti gli altri musei comunque della zona cioè di Cassino che ne abbiamo tre più uno privato il Camusac che naturalmente con attività idonea a quella che è l'offerta del museo stesso vado veloce su un altro punto che è stato già trattato che riguarda la funivia che a mio parere cioè sarei propensa comunque però adesso mi rivolgo soltanto c'è già un bando di gara comunque avviato se non mi sbaglio correggetemi anche tu Marino non lo so comunque relativo al fatto che è già stato avviato mi sembra da marzo e io in questa sede mi voglio soltanto soffermare appunto sugli impatti ambientali economici che comunque questa funivia potrebbe portare gli impatti ambientali comunque già ne hai parlato tu gli impatti economici e comunque se pensiamo già che un pullman su a Monte Cassino cioè per il parcheggio spende 25 euro e nel pullman magari ci sono 50 persone se già facciamo pagare il biglietto della funivia comunque 2 euro 50 per 2 fa 100 quindi si quadruplica quello che è l'incasso per Cassino naturalmente anche l'attrattiva comunque diventa maggiore cioè il fatto che comunque noi mettiamo un questo cioè questa sarà riportata comunque su diversi canali online, offline su guide, su internet e quant'altro che ci garantisce comunque una maggiore visibilità appunto di Cassino se stavano veloce sull'ultimo punto è che appunto se ampliamo un po' il nostro raggio di visione sicuramente abbiamo alle zone limitrofe possiamo godere appunto di un turismo enogastronomico di un turismo termale di un turismo naturalistico e sicuramente anche di quello che è un turismo religioso attraverso la via francigena in particolare questo valorizzare il percorso cioè per valorizzare appunto questo questo turismo è necessario che appunto Cassino operi in un'ottica di public governance cioè quindi di cooperazione di collaborazione anche con tutti quelli che sono i comuni appunto interessati e che vanno quindi da qui fino a Roma e sicuramente in ultimo punto riguarda appunto i percorsi storici di cui parlavamo già ieri di cui Marino comunque si fa portavoce è iniziato appunto già da tre anni questo cammino questa passeggiata che va da Caira a Monte Cassino e perché appunto non dobbiamo dimenticare che comunque Cassino è stato teatro di guerra e a tal proposito come molto si è parlato appunto di questa piazza Labriola io vorrei in occasione appunto a febbraio quando ricorre comunque l'anniversario della distruzione creare proprio un evento di soldatini o comunque di figure a esso associate che sono magari di due metri eccetera eccetera con il tema della guerra non è un gioco riportando comunque quelle che sono anche le testimonianze di quelli che erano i bambini di allora che adesso sono anziani e sono gli ultimi che comunque ci possono raccontare di questa di questa storia cioè di quello che hanno vissuto da bambini e quindi io avrei film grazie grazie io prima di chiudere Marino solo una battuta alla professoressa che è venuta a trovarci professoressa ha sentito tanti giovani oggi io ho sentito tante cose molto interessanti e necessarie e importanti per poter rivalutare Cassino perché effettivamente a livello turistico a livello culturale offre poco offre poco e quindi veramente non siamo oggetto di come diceva la studentessa non di turismo ma di ben altro cioè di escursionismo dobbiamo fare in modo che qui vengano turisti e non escursionisti ecco lei parlava appunto di siti archeologici vanno valorizzati e assieme ad essi vanno valorizzate quelle che sono le tradizioni della famiglia della storia delle leggende della culinaria creare per esempio località che concretizzino ciò che si apprende e il turista può visitare può fare esperienza di queste attrazioni culinarie perché diciamo la verità oggi tutti quanti vogliono viaggiare ma vogliono anche mangiare bene vogliono mangiare cose particolari vogliono ritrovare i vecchi sapori che non sentiamo più purtroppo ecco ho sentito tante belle cose mi è piaciuto molto l'intervento del ragazzo che ha parlato della situazione degradante della gioventù di oggi e della città in conseguenza di ciò al mattino troviamo bottiglie sigarette e quant'altro mi è piaciuto l'intervento dell'altro studente insomma ho sentito veramente tante idee che adesso non riesco a riassumere ma che mi sono appuntata sui miei fogli perché ci si può lavorare grazie professoressa ci sono tantissimi spunti molto complimenti non lo diciamo ma è stata la mia professoressa le medie è stato il mio alunno è stato il mio alunno gli voglio tanto bene era bravo e lo dimostra era bravo era bravo a scuola facevo le altre caratteristiche Angelo era bravo a scuola parlavamo di scuola era adesso non è più uno studente no no tuttora sono studente questa giornata in questa piazza di Exodus messa a disposizione da Luigi Maccaro è servita proprio come ai tempi di scuola di prendere appunti sul mio libro nero non nero perché non verranno mai realizzati e perché rimangano chiacchiere così come diceva anche Marina ma poter apprendere poter scrivere davvero con un pennarello indelebile chiamiamolo così tutti quei messaggi che sono pervenuti quest'oggi da Chiara che è stata l'ultima che ha parlato insieme alla professoressa fino a Luigi che ci ha aperto la giornata il pomeriggio e veramente con un pennello indelebile poter tracciare quelli che sono i segmenti che riguardano la nostra città ci sono tanti spunti interessanti e così un momento di riflessione che come si dice poi quando si fa politica poi si finisce sempre a mangiatoria nel senso buono della parola professoressa siamo di Cassino siamo cassinesi come si dice cassinati e quelli che stanno nel circondario ma qual è il piatto nostro caratteristico di Cassino quello che ci diceva ci ha insegnato Salvedi è tagliariele e fasule però nessuno li fa a Cassino però nessuno li fa nessun ristorante poi li fa allora qual è il nostro prodotto anche di marketing brand territoriale all'interno della nostra città se tu vai in qualche ristorante e dici qual è il piatto tipico e qualcuno non sa risponderti allora questa è una battuta così anche un po' scherzosa per dire che ci sono tutti i validi presupposti per poter insieme a voi insieme ai giovani che si sono cimentati quest'oggi poter portare avanti delle idee all'interno della nostra Cassino e noi come bravi studenti abbiamo cercato di ascoltare e di mettere e cercheremo di mettere in campo quella che è insomma la nostra idea della Cassino del domani io vi ringrazio senza che mi dilungo più di tanto perché subito dopo comincia un interessante così non lo dico io tiziati rubo il mestiere un interessante momento di confronto su quello che è la Giulia lo diceva prima Angelo Spallino forse vent'anni fa si parlava della tipo della macchina tipo che rilanciò un po' il nostro territorio adesso tutte le speranze sono rivolte verso la macchina una nuova macchina che lancerà Fiat FC Auto che è la Giulia noi come regione abbiamo lo ha detto ieri il presidente Zingaretti abbiamo cercato di creare le condizioni affinché la Giulia possa in certo qual modo camminare su strade sicure però FC Auto sta facendo tanto per il nostro territorio con un investimento abbastanza importante e sentiremo anche dalle organizzazioni sindacali anche da quelli stakeholder del nostro territorio a cominciare dai presidenti dell'ASI e del COSILAM che sono arrivati e sono nostri ospiti così come anche dall'assessorato regionale allo sviluppo economico con il dottor Ornelli e anche si è parlato di impresa si è parlato del PMI lo diceva proprio Marina la presenza di Lazio e Nova del presidente di Lazio e Nova quest'oggi è anche una testimonianza che di fronte diciamo alle idee e altri fanno anche le chiacchiere noi cerchiamo di fare i fatti concreti quindi vi invito a trasferirci tutti quanti nell'altra location che è nell'ex Falignameria che è anche un'assonanza diciamo lavorativa dove nella Falignameria si lavora e noi vorremmo andare a lavorare per cercare di sapere da loro ulteriori spunti per il bene della nostra città perché in questa location adesso c'è diciamo la sistemazione della serata che prosegue fino a questa sera quindi vi invito a trasferirci tutti quanti all'interno della Falignameria grazie grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti